Promuovere la salute dei dipendenti e avere delle uniformi, delle personale di grande qualità valorizzando le eccellenze del territorio sono i capisaldi dell'accordo siglato alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso tra la Cattolica e Moda Impresa, società molisana leader del settore moda Mario Zappia e Romolo Dorazio, rispettivamente direttore generale della Cattolica e presidente di Moda Impresa hanno messo nero su bianco l'intesa che prevede da un lato la fornitura gratuita delle divise per il front office della Cattolica da parte dell'azienda Tessile e dall'altro la possibilità per i 30 dipendenti dell'impresa Isernina, compresi coniugi e figli, di usufruire di visite specialistiche e di screening presso la struttura di contrata Tappino. Per chi fa medicina prevenzione è la chiave per poter dare maggior salute ai nostri concittadini. In questo caso la parola chiave è prevenzione, quindi rimane sempre prevenzione ma rimane anche investimento nel territorio molisano. La scelta della Cattolica e della Fondazione Giovanni Paolo II di voler continuare a insistere nel far crescere e crescere noi stessi In questa realtà molisana questa occasione è un altro esempio per dimostrare quanto detto in precedenza. Noi vogliamo affermarci, vogliamo consolidarci, vogliamo ancora investire in questo territorio. Stiamo facendo su Termoli con un poliambulatorio e in occasione di questo avevamo la necessità di vestire le nostre front girl, in questo caso front woman. E allora abbiamo pensato piuttosto che comprare con estrema facilità un abbigliamento di quelli già pronti, abbiamo pensato di verificare se all'interno della regione e siamo stati non sorpresi, non stupiti che ci sia una realtà importante, appunto abbiamo verificato che c'è una realtà importante di moda e allora abbiamo pensato di fare questo nuovo investimento e devo dire è un connubio molto bello. Io ritengo che quando un lavoratore sta bene sul luogo di lavoro, che poi è il luogo dove passa due terzi della propria vita, sicuramente può rendere al meglio e meglio. Quindi siamo contenti che attraverso questo accordo importantissimo con la Fondazione Giovanni Paolo II possiamo erogare prestazioni di welfare aziendale in favore dei nostri dipendenti. Un'iniziativa che rientra in un progetto di welfare aziendale, un'attività che si ripercuote positivamente sul clima generale dell'impresa che vede i suoi lavoratori prendere parte alla vita aziendale con più serenità e quindi con più motivazione. Lei ha parlato di una sorta di premio per il dipendente, una visita specialistica che altrimenti probabilmente non farebbe mai. Assolutamente sì, da un lato è un premio alla produttività del dipendente, dall'altro può essere l'occasione, come diceva lei, per effettuare degli screening che probabilmente un po' per pigrizia, un po' per paura il dipendente non effettuerebbe. Per cui speriamo che non occorra e non accada, ma può essere anche l'occasione per scoprire le necessità di cure che altrimenti non si sarebbero scoperti. Grazie a tutti.